Benvenuti nella mia cucina Allora, in onore del libro che Alessandro Tamburello mi ha regalato per Natale ossia Benvenuti nella mia cucina sto preparando il primo la prima ricetta tratta da questo libro che è le arance caramellate non avendo le arance come Benedetta ci insegna bisogna sempre reinventarsi ho utilizzato dei mandalini eccoli qua qui sta bollendo lo zucchero insieme al cognac e ha dell'acqua perché vabbè non avendo il succo d'arancia ho usato dell'acqua e tra un attimo mi accingerò ad ossare il tutto qui sopra eccomi il caramello è pronto quindi adesso lo togliamo dai fornelli scotta lo mescolo un po' no, sembra molto e adesso lo versiamo per l'arance ve lo sapete ve lo sapete sull'arance caramellate ecco il piatto è pronto il piatto è pronto l'arance caramellate ha ha e mangià Grazie a tutti.